è freddo è freschetto qui nella bassa come vedete il sole è alto nel cielo giuro allora con coba abbiamo visto una frase che arriva dal buon vecchio ma in realtà giovanissimo musa o la re figlio del grande maestro fa dubau la re allora vi ricordo che schematicamente o meglio a livello di ragionamento sull'accompagnamento dei tamburi bassi sono frasi che sono costruite sul silenzio tra virgolette e frasi costruite sulla frase di Sambane Dundu quindi prima frasetta qui siamo sul silenzio seconda frasetta invece siamo su quindi peripita peripita pata torniamo sulla prima parte quindi fin sa sa da qui katakan kataka torniamo sull'altra torniamo indietro di nuovo sul silenzio quindi di tak ten karakata tak ten karakata continua tak ten karakata pela peripita peta sempre Sambane Dundu tak ten karakata pela peripita peta quindi quindi dall'inizio quindi dall'inizio bellissimo buon Natale